Noi abbiamo ratificato già da anni la Convenzione di Istanbul, ci sono però ancora sei Stati membri che non l'hanno fatto e la cosa importante è che sarà proprio l'Unione Europea a ratificare i vari Stati membri. La Convenzione di Istanbul è importante perché è una prevenzione alla violenza e un'armonizzazione su tutto il territorio e la cosa alla quale io tengo in particolar modo è il gratuito patrocinio. Le donne vittime di violenza, così come i minori, devono avere un gratuito patrocino, non devono anche pagare un processo.